Con Maurizio Maroli della Allin, società storica del settore Broadcast in Italia, proviamo a fare un po' il punto su quelli che sono alcuni dei vostri marchi rappresentati con le rispettive novità. Assolutamente, possiamo parlare di Telestream, un'azienda leader nel settore del Trascoding Files con diverse novità presentate quest'anno prima a NAB e adesso ad IBC, tra cui un hardware dedicato a Lightspeed Server per la velocizzazione del Trascoding, soprattutto dove sono coinvolti dei processi video, quali H.264, Denter Lacing, Frame Size e via dicendo. Altro marchio, versione nuova di Vantage 4.0, Volicon, leader nel settore dell'archivio legale, ha presentato una macchina che fa la registrazione da un flusso ASI e può registrare i classici 90 giorni per la registrazione legale. Un altro marchio di punta con cui lavoriamo molto è la Ross Video, mixer video di ultima generazione, da quello piccolissimo crossover, 6 canali al Vision, 8 banchi effetti, multivio integrati, DVE a volontà e poi tutta la parte della nuova acquisizione con la robotica. Grazie a tutti.